Buongiorno e benvenuti a questa segna stampa del 24 dicembre, diciamo che è l'ultima prima di Natale perché per i prossimi due giorni i giornali non ci saranno, quindi è l'occasione per farvi tantissimi auguri a tutti quanti voi che in questi cinque anni avete seguito la Zuppa sempre di più, ci sono tanti tra voi, Marcello, Francesca, Giovanna, Susanna, Françoise, insomma non voglio dimenticarmeli tutti, anzi me li dimenticherò tutti perché non ci dà di soltanto una parte che mi hanno seguito quest'anno fino a questo Natale, a questo Santo Natale, che vi auguro ottimo a tutti quanti voi, ma andiamo alla ciccia, al giornale, a quello che è successo oggi sui quotidiani, vediamo subito che il tema fondamentale oggi è che i ministri parlano, avendo finito i loro mestieri hanno detto, ma sapete che c'è di nuovo, adesso lasciamo un'intervista e quindi troviamo un'intervista al Presidente del Consiglio, un'intervista alla Ministra De Micheli, un'intervista a Di Maio, un'intervista a Gualtieri e poi magari me ne è sfuggita qualcuna, queste interviste spesso parlano del caso Autostrade, l'ultimo caso che è contenuto in un articolo del 33 del decreto Mille Proroghe e tutti quanti dicono una cosa diversa, è una cosa straordinaria, oggi leggete i giornali sul caso Autostrade, che è l'unico caso un po' concreto che è rimasto, non ce n'è uno che dica la stessa cosa, è una roba straordinaria, partiamo dalla Ministra delle Infrastrutture, la De Micheli, persona seria, che conosce e secondo me non ha nessuna intenzione impunitiva nei confronti di nessuno, che oggi rilascia un'intervista, adesso non mi ricordo forse al Corriere della Sera, ma non sono sicuro che dice, Ministra delle Infrastrutture dice, nessun es proprio proletario, nessuna nazionalizzazione o vendetta, vi segnalo che all'interno di questo decreto Mille Proroghe, che è cambiato al 33 e al 38, sostanzialmente la parte che riguarda le autostrade non è cambiata e hanno fatto in modo che se fottessero le autostrade, l'indennizzo che devono dare le autostrade si riduce e soprattutto c'è subito qualcuno che può occuparsi delle autostrade al posto delle autostrade, cioè l'ANAS, una sorta di automatismo in caso di revoca, che rende la revoca più plausibile. Di Maio invece, che è l'altro opposto rispetto alle interviste di oggi sulla stampa, dice autostrade via le concessioni, non fece le manutazioni sul ponte. Allora, come mettiamo insieme Di Maio e la De Micheli? Bisognerebbe un po' ragionare chi dei due ha ragione e chi dei due può mettere le cose a posto. Allora, andiamo sul messaggero e vediamo Mario Conti che intervista il Presidente del Consiglio Conte e dice non chiedo la revoca, dovevo intervenire per sistema più trasparente e per cancellare le norme di favore. Quindi abbiamo Di Maio che dice, Di Maio subito via le concessioni e la De Micheli che dice nessuna nazionalizzazione e Conte che ci fa capire, non chiedo la revoca. Quindi bisogna che si mettano un po' d'accordo sulle comunicazioni Casalino, oltre a occuparsi dei franzi con la Merkel e con Macron, prima di tornare al grande fratello dell'edizione 2025, forse dovrebbe cercare che i propri ministri dicano la stessa cosa su un tema tanto delicato quanto una società quotata come Atlantia e Autostrade. Ma Conte in realtà è poco credibile sul fatto che non chiede la revoca, perché fu il primo quando crollò il ponte Morandi a dire delle cose incredibili, cioè che la politica non poteva aspettare la giustizia e fu quello che innescò la battaglia più dura insieme a Salvini e insieme a Di Maio, direi Di Maio Conte e in subordine Salvini contro Autostrade. In realtà il punto fondamentale è che ieri Aspi, cioè la società controllata da Atlantia, cioè del Benetton che si occupa delle Autostrade, ha detto, va bene vi volete revocare, mi volete dare 23 miliardi come è previsto dai contratti, ma in realtà queste norme avrebbero, ci racconta il sole, è cambiato le carte in tavola e quindi l'indennizzo dovrebbe essere di 10 miliardi, voi dite tanti soldi, insomma per un'azienda come Atlantia che controlla Aspi che è indebitata per 10,8 miliardi, è una delle poche aziende italiane che è andata all'estero a comprare, in particolare in Spagna ha comprato le autostrade spagnole e i costruttori spagnoli che si chiamano Abertis, ci siamo gonfiati il petto di orgoglio, però ovviamente ha fatto debiti Castellucci nel fare questa operazione, questi debiti dovrebbero essere ripagati dalle autostrade, ma se le autostrade non ce l'hanno più e gli utili di autostrade non ci sono più perché Conte, De Micheli e compagnia cantante gliele revocano, il titolo è la bolla Atlantia scoppia come un pallone, questo ci spiega autostrade, l'avete capito? Quindi toc toc, vi rendete conto cosa vuol dire fa scoppiare autostrade? 7 mila persone senza lavoro, la più importante multinazionale italiana delle infrastrutture che crolla, qual è il sapore per arrivare alla sintesi di questa vicenda? E che ci troviamo con un'altra Banca Veneta, un'altra Popolare di Bari, un'altra storia incredibile per cui non è too big to fail come si diceva sulle banche durante la crisi del 2008, ma che queste aziende ricattano di fatto lo Stato e lo Stato non può fare tanto il fenomeno con loro perché dice sapete che c'è di nuovo, voi ci rendete poveri, poi chi cacchio se ne occupa della grande multinazionale Atlantia? Quindi abbaglieranno moltissimo ma alla fine potranno fare poco o se faranno come hanno fatto nel caso dell'Ilba, poi dovranno tornare indietro facendo dei danni clamorosi, è evidente che le concessioni potranno essere studiate meglio, che non è possibile che questi concessionari autostradali prendano così tanti utili, un miliardo e mezzo su sei miliardi di fatturato, ma oggi rompere come cercavano di fare questi qua è una roba da matti. Nel frattempo Giannini oggi su Repubblica dice, insomma all'anima dell'anno bellissimo caro Conte come ci avevi detto tu l'anno scorso, sulla tragedia stradale di ieri e delle due povere ragazze, il padre dice, il padre che peraltro aveva perso la vita in una tragedia stradale, aveva perso l'uso delle gambe in una tragedia stradale, Paolo Genovese il padre del ragazzo che ha investito le due ragazze che nel suo film più sconosciuto, perfetti sconosciuti, c'era il dramma di una coppia che parlava appunto di un omicidio stradale che era stato nascosto, insomma in questo dramma, nel dramma la soluzione qual è? È colpa della politica, ce la spiega Giannini ma anche il quotidiano nazionale in cui dice, ad evitare la tragedia sarebbe bastato un lampione, non è così, non è così, ieri era tutta colpa del droga e dell'alcol del ragazzo, anche oggi su molti giornali, qualcuno dice, ragazzi però magari a Corso Francia che è una specie di autostrada, non si passa con rosso, non si passa scavalcando come qualcuno dice il gareile fuori dalle strisce pedonali, posto che tutto ciò è da verificare, perché ieri c'erano soltanto indiscrizioni su questo comportamento diciamo un po' difficile, un po' difficile da prevedere di queste ragazze, il punto fondamentale è che qui cercare a tutti i costi il colpevole nella politica, quindi nella raggi, lo dico io, mi sembra una cosa assurda, perché chiunque conosca Corso Francia sa che il lampione, che a Roma non ci sono, il buio nella città è pazzesco, non avrebbe l'asse salvato la vita purtroppo di un beato nessuno, non è il lampione che salva lì, diverso il quotidiano nazionale che parla dei 18 quanti sono, c'è una persona uccisa ogni quattro ore sulle strade pedonali e lì mancano i controlli, le sanzioni, tante altre cose sulle quali si potrebbe discutere. Oggi mi ha fatto veramente senso leggere il pezzo di travaglio, ve lo devo dire, lo sapete che io lo leggo con attenzione, è un attacco a Gianni Riotta e a Matteo Renzi, è un attacco a Personam, freddo, per un tweet che mi ha dato ieri Gianni Riotta, questo è il motivo per il quale tanti di voi che mi criticano e dicono guarda il giornalismo, la zuppa, i toccola, i toni, io purtroppo quando leggo quella roba dico avete ragione, perché non è possibile aver ridotto il giornalismo a un fondo di questo travaglio che è dedicato soltanto a una cosa di cui non fotte niente a nessuno, se non insulti che lui fa a Renzi e a un altro giornalista che si chiama Riotta, ma chi gliene ne frega, secondo voi, degli insulti di travaglio a Riotta? Forse elettori del fatto che ormai si sono addomesticati a questa specie di urulato, di insulti nei confronti di chi non li pensa come il proprio capo e leader. Molto più interessante invece, vi devo dire la verità, è l'intervista di Gualtieri, oggi Repubblica, che fa venire i brividi a un liberale, fa venire i brividi a un liberista, ma non un liberista, è un liberale, sentite cosa dice, serve più Stato, e voi pensate più Stato per la sicurezza, più Stato per i confini, più Stato per l'amministrazione della giustizia, più Stato nel decoro delle città, più Stato nell'illuminazione delle città, più Stato nel controllo del territorio, no, sapete in che cosa serve più Stato? Serve più Stato nelle aziende private, basta col tabù dello Stato azionista, fa bene anche al mercato, cioè vuole le nazionalizzazioni delle imprese italiane sostanzialmente, ma è così, leggetelo, è il comunismo non di Corbyn, ma dell'Inghilterra degli anni 70, certo, detto con un garbo diverso, i privati possono coesistere con il pubblico, c'è il vero e proprio social democrazia anni 70, mi fa orrore, lei sarà una persona per bene, sarà una persona che vuole il MES, sarà una persona europea, ma sono i nostri nemici, dei liberali, quella roba là è nulla di peggio di quello, il pubblico non può fare solo le regole, che io dico invece ne fa troppe di regole, ne facesse di meno, aggiungo io, ma lui dice il pubblico non può fare solo le regole, ma deve anche agire, va bene? Siccome questa è una minoranza quella che pensa quello che penso io, spero di rimanere in una minoranza che si amplifichi, a me delle regole ne voglio di meno, ma di agire dello Stato voglio zero, zero, meglio un'azienda privata gestita male che un'azienda pubblica gestita male, perché l'azienda pubblica gestita male non ce ne accorgeremo, la pagheremo noi, ma veramente pensate che l'ANAS risolve il problema della tostata in Italia, mi viene da ridere, sapete qual è la soluzione per l'ILVA? Il Green New Deal, cazzate il Green New Deal, se fosse questa genialata l'avrebbero fatto in qualche parte del mondo, da nessuna parte del mondo, perfino in Germania, che sono molto attenti ancora usano il carbone, vabbè, ma insomma, l'Alitalia l'ha già deciso Gualtieri, chissà su quali caratteristiche, o Di Maio prima di lui, che deve fare l'alleanza con le ferrovie dello Stato, nel frattempo per 2 milioni di Euro al giorno, approvata ieri la manovra, il Sole 24 Ore titola sulla manovra di Gualtieri, come ho titolato io pochi giorni fa, scusatemi se mi cito, e cioè che questa manovra porta al governo subito a occuparsi del prossimo immediato futuro, che sono 47 miliardi di clausole di salvaguardia IVA che dovranno disinnescare gli stessi di quest'anno, che però l'anno prossimo non potranno dire ottobre e novembre, è colpa del conto del papete, è il loro conto, 47 miliardi, intervista a Federer per gli appassionati del tennis, che è una specie di intervista che fa Repubblica insieme ad altri giornali, in cui parla della sua dramma, che tale sarà in una certa misura nel lasciare il tennis nei prossimi anni, in più vi segnalo Gnocchi, favoloso, oggi che ci spiega e ci dà dei consigli politicamente scorretti di lettura e di visione per questa vacanze, va da White di Bretton Ellis alla biografia di Oscar Wilde e tra i film, me l'ha citato una mia amica ieri sera, quindi mi piace molto citarvelo, è The Loudest Voice con Russell Crowe e ovviamente dice dal primo gennaio tutti a vedere Zalone, nel frattempo ovviamente comprate le tasse invisibili se non le avete ancora comprate per regalarle a qualcuno di voi, il foglio, secondo una denuncia che fa oggi, Casadino avrebbe deciso di togliergli i finanziamenti pubblici, lo stesso Casadino che un anno fa minacciò un giornalista del foglio Merlo dicendogli, caro Merlo che ti affanni intanto a prendere notizie, tanto il tuo giornale non esisterà più, vogliamo vivere in un mondo in cui non c'è più il foglio ed è Casadino a decidere a chi dare i finanziamenti pubblici? Io no, la Guardia di Finanza ha riaperto una vecchia inchiesta, piuttosto risibile, ma insomma io penso che voi lo sapete come la penso con il ruolo del pubblico e quanto per me è assurdo che i contribuenti paghino per l'editoria, ma sul foglio, sulla questione del foglio, la ripicca di Casadino fa premio su tutti i miei principi liberali, mettiamola così, nel frattempo la proroga, ieri c'è stata una norma che nessuno si è accorto, cioè una piccola norma che proroga per un anno almeno, anzi proroga sine e die, i permessi umanitari per coloro che sono in Italia, il che vuol dire che di fatto è stato smontato uno dei cardini del decreto sicurezza, zitti zitti tutti quanti, nel frattempo Gualtieri nella sua intervista a Repubblica ha modo di dire che oggi con la Lamorgese, fantastica perché tutto funziona bene e non c'è bisogno più di alzare la voce, vorrei segnalare alla Lamorgese, a Gualtieri, a tutti gli spiriti belli che prima dell'arrivo di Minniti e poi Minniti osteggiato dal suo stesso PD e di Salvini, il problema dell'immigrazione era un problema perché voi facevate questa retorica dell'accoglienza, disgustosa, perché tanto non eravate voi a occuparvi dell'accoglienza, fantastico, oggi il Corriere del Trentino Alto Adige, l'apertura è la battaglia sul diesel, perché mentre noi facciamo i fenomeni, lì hanno reso, non solo lì in tante grandi città italiane, ma è una cosa epica, hanno reso impossibile a quelli che l'hanno l'Euro 3 diesel di poter circolare, come se, e lo scrivo nel mio libro, le tasse infisibili, chi ha una Libra diesel, una Panda diesel, non esiste, un appunto diesel, ce l'abbia Euro 3 perché gli piace avere una Panda diesel un Euro 3 e non perché non ha i soldi per comprarsi una cazzo di Tesla e quindi quelli che hanno l'Euro 3 se la vendessero a 4 soldi e si comprassero una Tesla, questi morti di fame inquinatori del pianeta e io direi che con questo è tutto e vi do appuntamento come sempre alla prossima zuppa che non sarà nei prossimi due giorni perché i giornali non ci saranno, ma sul sito nicolaporro.it non si chiude mai, ci sarà un racconto di Natale di Giampaolo Serino che vale davvero la pena leggere e non solo lui, ciao!